Il Gran Premio di Monaco non è stato solo un evento sportivo, ma anche un palcoscenico per nuove storie d'amore. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Fedez, il celebre rapper italiano, è stato avvistato mano nella mano con la ventenne modella francese Garance Autier. È nata una nuova coppia? Le immagini parlano chiaro. Fedez e Garance Autier sono stati immortalati insieme, scatenando una vera e propria tempesta di gossip. Solo poche settimane fa, il rapper parlava in lacrime della sua separazione da Chiara Ferragni durante un'intervista a Belve. Ora, sembra che una nuova fiamma stia illuminando la sua vita. Il video, diffuso su Instagram, mostra Fedez e Garance Autier mano nella mano al Gran Premio di Monaco. Ma le loro apparizioni insieme non si fermano qui. Courchevel a marzo, Parigi, Miami, il celebre festival di Coachella e ora Monte Carlo. La loro frequentazione sembra andare avanti da qualche mese, stando a quanto riportato. Ma chi è Garance Autier? Bionda, occhi azzurri e alta 1,80 m, la modella ventenne ha iniziato la sua carriera a soli nove anni, posando per il suo primo servizio fotografico professionale. Recentemente l'abbiamo vista a Cannes 2024, impegnata in prestigiosi fashion show che si sono svolti in contemporanea al Festival del Cinema. Garance è una ragazza dai mille talenti. Appassionata di danza ed equitazione, è seguita da due importanti agenzie di moda, una francese e una spagnola. Ma non è tutto. Garance è anche una studentessa della IE Business School di Madrid, dove studia management e finanza, sognando un giorno di lavorare nel mondo del cinema. Nei giorni scorsi un altro nome era stato accostato a Fedez, quello della 22enne modella e studentessa Ludovica di Gresi. La giovane, si diceva, fosse presente alla notte di violenza in cui fu aggredito Cristiano Jovino. Tuttavia, Ludovica ha smentito ogni cosa, negando non solo la sua presenza al pestaggio, ma anche il presunto flirt con Fedez, definendolo solo un amico. Ora, al Gran Premio di Monaco, Fedez sembra aver trovato una nuova compagna. È davvero Garance Autie la nuova fiamma di Fedez? Per scoprirlo, non ci resta che attendere nuovi sviluppi e seguire da vicino questa intrigante storia. E tu cosa ne pensi? Lascia un like e commenta qui sotto!